Continua il braccio di ferro tra Comune di Firenze e Polizia Municipale contro la riorganizzazione del corpo decisa da Palazzo Vecchio. I vigili urbani incroceranno di nuovo le braccia il 17 e il 18 dicembre. La rappresentanza sindacale unitaria ha proclamato 48 ore consecutive di sciopero per l'ultimo fine settimana prima di Natale. E non solo, dal 12 al 19 dicembre sarà blocco degli straordinari. Più vigili strada giorno e notte è la filosofia dell'amministrazione comunale che nel piano prevede l'innalzamento da 56 a 58 anni dei limiti di età per i servizi notturni. Ma la proposta del Comune, accolta parzialmente dai sindacati, è stata bocciata dall'Assemblea che ha dato mandato di proseguire la mobilitazione. Il fine settimana del 17 e del 18 dicembre è il primo utile dopo due scioperi nazionali del pubblico impiego che non hanno consentito ai vigili di proclamare lo sciopero.